Quiz Coinbase apprendi e guadagna. Ecco come rispondere ai quiz di Coinbase che ci permetteranno di guadagnare criptovalute gratis. Nel dettaglio in questo video vedremo come guadagnare la criptovaluta Fetch, Render, Amp e Stellar Lumens. Una cosa importantissima è che queste criptovalute se poi non vi piacciono le potete convertire in qualsiasi altra cripto come per esempio convertirla in Bitcoin, in Ethereum, quindi lo potete fare. Quindi in questo video vedremo le risposte a tutti i vari quiz e la cosa straordinaria è che potete sfruttare tutto questo senza investire nemmeno un centesimo di euro. Vi ricordiamo che per poter partecipare a questi quiz dovete registrarvi a Coinbase. Per registrarvi a Coinbase troverete un link in basso in descrizione che vi dà anche un sostanzioso bonus di benvenuto. Infatti vi basterà cliccare sul link, effettuare la registrazione, verificare i documenti. Una volta verificati i documenti vi basterà acquistare 100 euro di criptovalute, in realtà sono 100 dollari ma io per comodità visto che voi pagate in euro vi dico 100 euro di criptovalute, anche Bitcoin, Ethereum eccetera. E riceverete 10 dollari di Bitcoin, quindi più o meno il 10% di quello che avete investito che è un ottimo ritorno. E tutto questo lo potrete fare gratis essendo che una volta che avete depositato prendete il bonus, volendo potete rivendere tutto e poi bonificare il totale all'interno del vostro conto corrente. Oppure se volete investire in cripto, che è la cosa più intelligente da fare visto che vi siete registrati a Coinbase, le potete tenere all'interno di Coinbase e poi magari andare a visionare i video che abbiamo già fatto dove spieghiamo anche come guadagnare con Coinbase in maniera differente e non solo con apprendi e guadagni che vedremo oggi. E quindi tra le altre cose mettere in staking le criptovalute e avere degli interessi passivi. Detto questo però iniziamo dal primo quiz e iniziamo da render. Per iniziare il quiz quello che dobbiamo fare è cliccare su inizia lezione, in questo caso guadagneremo 3 dollari di render. Come potete vedere quando iniziamo una lezione ci darà delle nozioni scritte alcune volte ai video dove possiamo capire come funziona quel determinato token o quella determinata blockchain. Quindi noi andiamo avanti e alla prima risposta cos'è the render network, ok, dobbiamo rispondere che è un mercato decentralizzato di GPU per il rendering. Come potete vedere abbiamo risposto correttamente e ci hanno dato un dollaro in render. Clicchiamo su prossima lezione e come sempre andiamo a leggere le varie informazioni, ok, in che modo possono guadagnare render gli utenti? E quindi noi quello che andiamo a fare è rispondere creando opere d'arte con i render in 3D. Quindi come potete vedere abbiamo guadagnato un dollaro, ok, poi andiamo avanti, leggiamo anche la terza domanda, quindi leggiamo prima la lezione e poi rispondiamo alla terza domanda. Quali prodotti è in programma dei render network per il prossimo futuro? Monetizzazione di oggetti e ambienti 3D. Abbiamo risposto correttamente e quindi io posso cliccare su guadagna altri premi e posso partecipare naturalmente agli altri bonus. Come potete vedere io qui mi ritrovo l'importo guadagnato di 3 dollari e se vado all'interno delle risorse del mio portafoglio e vado qui in basso, qui all'interno della sezione delle tue risorse o nell'app, naturalmente potete anche fare tutto da app senza problemi, ecco che ci ritroviamo il controvalore di render. Se io volessi vendere render, ok, quello che devo fare, come potete vedere, è cliccare qui su render e posso o acquistarne o venderlo, ok, nel portafoglio euro, oppure addirittura convertire in un'altra criptomoneta. Volendo potrei convertirla per esempio in AVE, ok, vi faccio l'esempio, clicco su converti tutto, quindi attendo e quindi mi dà qui il totale, mi fa capire qual è la tariffa, il tasso di cambio e quanto ne vado a ricevere, ok? Posso pure cliccare su converti, cosa che non farò adesso, ma almeno vi ho fatto vedere come si fa questa cosa. Andiamo quindi a rispondere adesso al quiz di fetch, fetch.ai. Quello che dobbiamo fare è cliccare su inizia lezione, possiamo guadagnare 3 dollari di FET. Allora, come sempre, abbiamo la possibilità di leggere la lezione, in questo caso la lezione, come potete vedere, è in inglese e ci spiega un po' come funziona il tutto. Andiamo avanti e clicchiamo su poi file quiz, oppure andando avanti a un certo punto ci ritroveremo in questa schermata. E qui dobbiamo naturalmente rispondere alla domanda e andremo a rispondere alla seconda. Poi, attenzione, queste cose possono variare, comunque, software agents, ok? Come potete vedere la risposta è corretta. Andiamo avanti, seconda domanda, leggiamo sempre la lezione. Questa è la domanda, ok, lascio un attimino così potete vedere se corrisponde a quella che state vedendo voi. E la risposta è to power fetch AI agents, ok? Agents. E quindi abbiamo guadagnato un dollaro. Poi andiamo avanti, come sempre leggiamo la lezione. Questa è la domanda e la risposta corretta è automated interactions, ok? Quindi non market maker ma questa, va bene? Ecco che abbiamo guadagnato un altro dollaro. Posso guadagnare altri premi, come sempre, mi riporterà qui e poi io mi ritrovo all'interno delle mie risorse il token in questione. Come sempre vi ricordo che all'inizio non lo vedo, mi basta aggiornare la pagina e dopo pochi istanti mi dovrei ritrovare appunto il mio controvalore. Se voglio convertire, quello che vado a fare è selezionare fetch e posso decidere. O di venderlo nel mio portafoglio euro o convertirlo in qualsiasi altra cripto. Posso cliccare su converti tutto, per esempio, e qui mi dà il totale. Quindi il tasso di cambio, la tariffa, il totale e devo cliccare poi su converti ora. E quindi potenzialmente lo posso convertire anche in bitcoin o ethereum. Andiamo quindi di nuovo all'interno della sezione apprendi e guadagna. Quindi rispondiamo al quiz di AMP dove possiamo guadagnare 3 dollari. Quello che dobbiamo fare è cliccare su inizia lezione. Fatto questo ci ritroviamo all'interno della lezione. Come sempre dobbiamo leggere la lezione. Questo ve lo consiglio, ve lo straconsiglio perché sarebbe anche corretto verso comunque Coinbase e verso il token in questione. E la prima domanda è questa. Quindi la lascio un attimino così, così la potrete leggere. Che cos'è AMP? È un collateral token. Bene, abbiamo guadagnato un dollaro. Andiamo alla prossima lezione. Come sempre leggiamo la lezione. E poi questa è la seconda domanda, ok? Considerate una cosa molto importante che le domande, questo ve lo dico, possono anche variare alcune volte. Sia nelle, variare nel senso nell'ordine di come le vedete, sia nelle risposte. Questa potrebbe essere qui, ok? Comunque la risposta corretta è questa qui, ok? Poi andiamo avanti e andiamo all'ultima domanda. Scorriamo con la lezione. Lascio sempre la domanda un attimino così potete vedere a quale corrisponde. E la risposta è questa. Abbiamo guadagnato un dollaro. Andiamo all'interno della sezione premi di nuovo. Andiamo all'interno delle risorse. Come sempre subito non la vediamo, ma mi basta aggiornare la pagina. me la ritrovo qui in basso, eccola qui. Ci clicco su. Tendo il caricamento e posso decidere di acquistarne ancora, vendere il mio portafoglio euro oppure convertire in un'altra cripto. Immaginiamo di volerla convertire in bitcoin. Quello che vado a fare è cliccare su converti tutto e mi darà l'anteprima dove mi dice quali sono le tariffe, il tasso di cambio, il totale che poi vado a scambiare. E posso cliccare su converti ora. Qui mi dice quanto riceverò in bitcoin. Iniziamo quindi adesso la lezione di Stellar Lumens. Possiamo guadagnare fino a 10 dollari. Iniziamo però la prima lezione che ci permetterà di guadagnare 2 USD. Quindi clicchiamo su inizia la lezione. E qui abbiamo la possibilità tra l'altro di andare a visionare un intero video. Ok? La prima domanda a cui dobbiamo rispondere è cos'è Stellar? Stellar. Ok? Io lascio sempre la domanda qui così potete comunque leggere un po' il tutto. La risposta è questa. Hai guadagnato 2 dollari. Andiamo avanti. Poi, cosa sono gli Stellar Lumens? Io come sempre lascio un po' così potete visionare bene anche questa lezione qui in alto. E la domanda naturalmente per quali finalità si utilizzano gli Stellar Lumens? La risposta corretta è questa. Andiamo avanti. Invio di denaro con Stellar. Qui abbiamo sempre un bel video che vi consiglio di vedere. Perché Stellar è utile per l'invio di rimesse? Questa è la risposta corretta. Abbiamo guadagnato 2 dollari. Andiamo avanti. In che modo banche, aziende e persone utilizzano Stellar? Quindi per quali scopi le banche e le aziende possono utilizzare Stellar? E in questo caso per quali scopi le banche e le aziende possono utilizzare Stellar? La risposta corretta è emettere, scambiare e trasferire token in modo rapido ed efficiente. Ed ecco che abbiamo guadagnato 2 dollari. Andiamo avanti. E abbiamo l'ultima domanda. In che modo Stellar protegge le risorse digitali? Come funziona il protocollo di consenso di Stellar? La risposta corretta si basa sulla cooperazione di nodi affidabili per la conferma delle transazioni. Ed ecco che abbiamo guadagnato, anche in questo caso, 2 dollari. Possiamo cliccare su fine. Abbiamo completato, come avete visto, anche il quiz di Stellar. Andiamo a vedere, appunto, all'interno delle risorse. Non apparirà subito. Come sempre, quello che devo fare è aggiornare la pagina. Me lo ritroverò tra poco nelle risorse. Eccolo qui. Ci clicco su. Quello che io posso fare è decidere di vendere il tutto. Oppure di convertire in un'altra criptomoneta. Come sempre, se io clicco su converti tutto, immaginiamo di voler convertire in render, che è un altro quiz, appunto, di Coinbase. In cambio, mi darà 0,07 render. E in automatico queste sono le tariffe che vado a pagare e il totale che andrò a dare per poter, appunto, convertire il tutto. Siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo ottenuto un sostanzioso bonus attraverso la sezione apprendi e guadagna. In basso, vi ricordo, se ancora non siete registrati a Coinbase, avrete la possibilità di registrarvi gratis, verificare il conto e ottenere in più anche un bonus di 10 dollari in Bitcoin. Qui da Cryptovaluta Italia è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao e a presto.